Musica Apriamo le scritture in primo a Giovanni, capitolo 4, leggeremo dal versetto 17 al versetto 19. Desidero parlarvi questa mattina di una verità che riguarda il pentimento. Sì, una verità che riguarda il pentimento. Alleluia. Leggiamo primo a Giovanni, capitolo 4, 17, dal versetto 17, dice In questo l'amore è stato reso perfetto in noi. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi. Perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio? Quanti cristiani hanno paura del giorno del giudizio? Tutti chi tu ha buono bagnato. Ok. Che quale egli è, questo passo l'abbiamo letto la settimana scorsa, che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Se è perfetto agli occhi del Padre, noi siamo perfetti agli occhi del Padre, in questo mondo. Tu potresti dirmi, ma c'è un problema, io non mi sento perfetto. Hai ragione, non sei perfetto, il Cristo in te è perfetto. Alleluia. È in virtù di Cristo, è per Cristo, è in vista di Cristo, tutto è tramite e per mezzo di Cristo. Noi non abbiamo vita in noi stessi, abbiamo vita nel Figlio di Dio. Versetto 18. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Quando l'amore di Dio è perfezionato in noi, caccia via la paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura perché la paura ha a che fare con la punizione. Il timore si ha perché abbiamo paura di essere puniti. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Leggiamolo insieme, versetto 19. Noi lo amiamo. Per quale motivo? Perché lo amiamo. Ah, chi ha amato per primo? Lui ci ha amati per primo. Romani 5, 8. Romani, capitolo 5, versetto 8. Leggeremo tre passi di scrittura. Romani 5, versetto 8. Dice così, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Lo ripeto, mentre ancora eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Non ha aspettato che tu fossi perfetto o ti pentissi davanti a Lui. Non ha aspettato che tu venissi davanti a Lui per chiedergli scusa e perdono. Prima che tu chiedessi di perdonarti, Egli aveva già perdonato te duemila anni fa sul Calvario. Avevi solo bisogno di riconoscerlo. Alleluia. Romani 2, versetto 4. Quanti noi siamo d'accordo che Dio è buono? Sempre buono. La sua benità? Quanto? Sicuro? Ok. Romani 2, versetto 4. Ovvero, questa è una domanda, ovvero, Disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che il giudizio di Dio ti spinge al ravvedimento. Sbagliai? Come ho sbagliato? Che cosa? Dice la bontà, sicuro? Allora è la bontà che ti spinge al ravvedimento, non è il giudizio di Dio la paura di essere giudicati che ti spinge al ravvedimento. Io desidero parlarvi stamattina di come facilmente la religione cerca di trattare con questo soggetto il pentimento. Perché spesse volte il pentimento viene confuso con il rimorso. E io voglio che voi sappiate la verità per togliere ogni macchinazione di Satana dalla vostra vita. Perché egli è il bugiardo. L'abuso del pentimento. Molte persone nella chiesa odierna abusa il soggetto del pentimento. Purtroppo il soggetto del pentimento è spesse volte vulnerabile alle interpretazioni dei tanti che credono che il pentimento sia un rimorso. E ora capiremo come il pentimento, il vero pentimento, non ha niente a che fare con il rimorso. Il soggetto è vulnerabile ad una prospettiva legalistica perché il legalismo suggerisce che possiamo portare Dio in qualche modo a risponderci in base a ciò che facciamo. Tu fai un bravo e poi si ne pare. Noi l'abbiamo detto ai nostri figli, ma quanti di noi ringraziamo Dio che non l'ha mai detto a noi? Certamente l'abbiamo detto ai nostri figli, vero? Io sono colpevole. Se fai un bravo ti porto, se fai il bravo ti faccio avere, se fai il bravo. Quanti noi abbiamo detto così? I figli sono stati fregati. Come lo siamo stati fregati anche noi dai nostri genitori. quando ci hanno detto la stessa cosa. Perché il loro amore per noi, come il nostro amore per i nostri figli, non è determinato da quello che fanno. Però non gliel'abbiamo detto mai questo. Per questo parliamo di questo discorso dopo che i figli se ne vanno. I mannami a scuola domenicali non devono conoscere questa verità perché possiamo cominciare a continuare a camuffare questa storia in lunga bobrodo. La verità della grazia è che il Padre agisce verso di noi per prima amorevolmente e poi siamo noi a rispondere a lui. Come abbiamo letto in Primo Giovanni, noi amiamo per quale motivo? Perché prima Egli ha amato noi. Il nostro amore per il Signore è solo in risposta, cioè stiamo rispondendo al suo amore per noi. Se no, sarebbe una nostra iniziativa. Avremmo noi le redini e il controllo. Ma quanti di noi abbiamo capito che Dio ha fatto tutto? Quando Gesù ha detto è compiuto, ha finito l'opera sul Calvario, ha pagato per ogni cosa, il prezzo è stato pagato al massimo, l'unica cosa che noi dobbiamo è rispondere. L'idea che il pentimento porti le benedizioni di Dio alle nostre vite è un prevalente legalistico insegnamento nella Chiesa. Questo insegnamento fa parte in modo intrinseco del vecchio patto, cioè è il vecchio patto. Vi ricordo queste parole. Quanti di voi avete sentito Gesù dire? Dice, se non perdonerete gli altri, Dio che cosa farà o non farà? Non perdonerà voi. Quanti di voi avete sentito questo? Però Paolo contraddice le parole di Gesù. Come? Dicendo, perdonate come Dio in Cristo Gesù ha già perdonato voi. Cioè, sotto la grazia non siamo uno spartiacque delle situazioni, non siamo all'avanguardia delle cose, ma siamo coloro che rispondono invece. Noi rispondiamo all'amore di Dio, rispondiamo a quello che Dio ha detto. Devo andare oltre. Questo insegnamento fa parte in modo intrinseco del vecchio patto. Gesù stava parlando a coloro che erano sotto l'antico patto. Quando Gesù ha parlato di queste cose, ricordatevi che Gesù ancora non era andato alla croce, non aveva ancora pagato il prezzo, e quindi la grazia ancora non era stata stabilita. a motivo dell'opera compiuta di Gesù Cristo sulla croce, la verità basata sul nuovo patto è esattamente all'opposto. È la bontà di Dio che ci porta al pentimento. Alleluia. Non è la mia bontà che mi porta al pentimento. È la bontà di Dio. È la benignità di Dio. Questo messaggio, lo spirito religioso, Sai perché deve reagire? Perché perde il potere sulla libertà degli altri. E il Signore ci ha chiamati liberi. È libero Chi ha permesso al volere di Dio, cioè alla prassi, il procedimento di Dio, di prendere atto nella propria vita e portarci dove? Portarci in una relazione con Dio senza paura, senza vergogna. Ci ha liberati per essere liberi, non per essere nuovamente sottoposti alla schiavitù della legge, ma per rimanere liberi alla sua presenza. Non ci pentiamo noi per forzare a Dio di essere benigno verso di noi. Non ci pentiamo perché Lui è stato buono noi ci pentiamo perché Lui è stato buono per primo verso di noi. Io ricordo, vi racconto una storia che mi è venuta in mente stamattina mentre preparavo, sono stato nello stato invitato nello stato di Alabama per una conferenza e questa conferenza trattava la grazia di Dio. Abbiamo avuto un tempo, era una comunità messicana, piena di messicani, che si radunavano lì insieme in una chiesa, un edificio dove si radunavano anche l'assemblea di Dio. Noi abbiamo fatto la nostra conferenza e alla fine i pastori si sono messi d'accordo per fare una riunione insieme. Fare questa riunione insieme il locale era un po' piccolo e quindi hanno affittato un locale più grande e c'erano intorno a 400-500 persone e siccome questo era gestito dalla chiesa dell'assemblea di Dio avevano determinato che dovrebbe essere uno dei supervisori un presbitero della chiesa dell'assemblea di Dio e quindi lo hanno chiamato da fuori lo hanno portato ed è venuto con il suo entourage con il suo il suo gruppo che era un gruppo che guidava la lua dell'adorazione il pastore che è veramente un mio figlio spirituale a una chiesa in Puerto Vallarta in Messico mi aveva mi aveva detto che lui voleva che predicassi io ho rinunciato ho detto no che fai scherzi diamo spagio agli altri questo si alza a predicare e il titolo del suo messaggio era ci colpi tu buono cominciamo è colpa tua è cominciato Gesù è andato alla croce ed è colpa tua se tu non hai benedizione è colpa tua era tutta cupa nostra e alla fine di questo suo messaggio che ce l'ha messa tutta predicando con gli occhi di fuori c'era la comunità c'era la comunità di Juan che era uscita da questa da questa conferenza sulla grazia di Dio di Dio immagina queste persone e si ritrovano in avanti a questo tipo di messaggio e tutto ma da una mia a un certo punto finisce il messaggio e comincia ad accusare il popolo di Dio e dirgli che devono venire avanti per pentirsi davanti a Dio ci ha provato per dieci quindici minuti che poi mi dispiace un po' di Dio e colpa voleva mettere tanta colpa il sentimento di colpa e condanna sulle persone affinché le persone uscissero dai loro posti venissero avanti per strisciare per terra strisciando per terra oppure come si sguazzando come un maialetto nel fango e volevano che si arrodolassero nel fango quanti di noi abbiamo capito che il Signore già ci ha tirati fuori dal fango e che io vedevo proprio che Satana voleva disfare tutto quello che aveva l'opera che avevamo fatto riguardo la grazia e quindi comincia con queste accuse e questo pastore tutto ad un tratto io vedi che si sono alzate delle persone sono venuti davanti e cominciano tutti i cianci giusi tutti davanti poi ho notato che erano tutta la sua squadra che erano venuti con lui si sono sentiti male per il pastore e quindi si sono messi tutti in ginocchio signora bimbiatatino cominciano e io ho detto ho detto Juan chi è una del suo e pigli c'è un microfono c'è adesso prima mi ammazza Juan prende il microfono e Juan che è un pastore evangelista che conosce c'è la grazia di Dio io cominciavo venite a lui perché lui non ce l'ha con voi venite a lui le sue braccia sono aperte non desidera il vostro sacrificio desidera solo la vostra ubbidienza il vostro amore e chissà se c'ero in centinaia per venire avanti hanno coperto tutto davanti io mi sentia male per il tuo pastore per dire la verità ma quanti noi apprezziamo la grazia di Dio meravigliosa grazia meravigliosa grazia vado oltre alleluia è la bontà di Dio Dio è buono e ti vuole mostrare la via attraverso la sua bontà non il suo giudizio e io mi ricordo che come è come se ci coercion non so come si dice forse coerzione si dice in italiano coercizione sì sì è come se tu ci aggirare i bracci li devi forzare a venire avanti per piangere questo è portare le persone in uno stato d'animo di rimorso condanna senso di colpevolezza ma non libera le persone sapete io per questo mi viene davanti io voglio far sì che da questa casa si sappia bene che il pentimento non abbia nulla a che fare con il rimorso ma ha da fare con un cambio di idea alleluia io ricordo parole mi ricordo sin da bambino devi mentirti i tuoi peccati smettila di mentire rubare commettere adulterio fornicare giochi d'azzardo fumo balla alcol e così via dopo di ciò ti risponderai in modo favorevole dal suo trono si alzerà picchi tu facci sto bravo e credo che tanti di noi ricordano questi tipi di messaggi ma questa confusione sostituire il pentimento con il rimorso significa portare le persone sotto un'altra schiavitù perché invece di fare una decisione nel loro spirito e cambiare direzione si sentono approvati per le loro lacrime versate si sentono approvati perché adesso si compiace il pastore vedendo quanto si sono ruzzuliare un tanto fango perché hanno strisciato per terra bene adesso signora adesso tu per forza devi intervenire così è stato presentato e dico e voglio sottolineare non da mio padre mai me lo ricordo questo tipo di messaggio da mio padre mio padre aveva un concetto della grazia di Dio che era all'avanguardia sapeva bene il suo favorito e preferito capitolo nella Bibbia era Romani capitolo 8 non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo c'è tanto che non va con questo tipo di approccio ma prima di ogni cosa abbiamo bisogno di considerare il vero significato del pentimento cos'è il pentimento molte persone lo confondono col rimorso ovvero di sentirsi male e provare vergogna per ciò che è stato fatto la parola all'originale è metanoia che è la composizione di due parole meta e noia forse in italiano ha il loro significato ma meta significa dopo e noia significa pensarci su riflettere e cambiare idea dopo aver guardato la verità cioè tu hai concluso dopo aver capito la verità capito e studiato la verità hai fatto un'altra scelta hai cambiato idea pentimento significa cambiare direzione di 180 gradi se si andava in questa direzione non ha niente a che fare con un sentimento di rimorso ha tutto a che fare con un cambio di direzione che una volta si andava in una certa direzione ma una volta scoperta la verità abbiamo scelto di non continuare più in quella direzione abbiamo cambiato rotta è un cambio di direzione del nostro modo di pensare è un modo diverso di pensare rispetto a prima perciò il pentimento non significa come ho detto prima strisciare per terra o sguazzare nel fango davanti a Dio accumulando sensi di colpa condanna e vergogna pentimento essenzialmente significa cambiare direzione di 180 gradi cioè tu prima pensavi così adesso dice non è così e in un'altra maniera e vai nell'opposta direzione quanti noi abbiamo capito che è la verità che ci rende liberi alleluio l'apostolo Paolo chiaramente dimostra il rapporto tra il pentimento e la bontà di Dio quando scrisse alla chiesa di Roma e gli chiese fece questa domanda ovvero abbiamo letto ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità della sua pazienza e lunganimità non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge verso il ravvedimento ti spinge e non ti spinge affinché tu cada ma ti ti sprona ti incoraggia e ti spinge verso il ravvedimento ma non verso il rimorso ma verso un cambiamento di idea di convinzioni che sono diverse da quello che avevi prima e quante volte noi stessi io mi metto insieme a questi negli anni passati della mia vita e del ministero dove pensavo che tutti nell'anima dovevano esibire manifestare un certo rimorso per le cose fatte del passato è come se Dio cominciasse ora a dimostrare il suo amore verso di me dopo che io in qualche modo gli sono piaciuto o se è compiaciuto di me delle mie azioni guarda il cambiamento di azioni portano a te la benedizione perché toglie dalla tua vita il senso di condanna di colpa si toglie questa coltre che c'è sul tuo capo che ti porta vergogna perché hai un ricordo delle cose che tu hai fatte trasgressioni che tu hai fatte ma quello è secondo la legge noi viviamo sotto la grazia di Dio e io vi dico che è l'amore di Dio che ci costringe all'ubbidienza ovvero disprezzi le ricchezze della sua benedità perché perché ti fai tutte queste domande ti fai queste domande perché ancora tu ancora tu disprezzi oppure dici a te stesso non è possibile che Dio mi ami così tanto non è possibile che Dio mi ami in questa mia condizione non è possibile che ci sia così grande amore abbiamo cantato qual grande amore l'abbiamo capito l'amore di Dio se io amo Dio è perché sto rispondendo al suo amore perché il suo amore mi porta ad amarlo non cambio io la mia condotta ma è Dio è l'amore di Dio che opera dentro di me che mi porta al cambiamento di condotta hai cercato mai di cambiare te stesso e non non ci rinisciste mai il rimorso ti ha portato solo a ripetere l'errore che avevi precedentemente commesso vai a ripeterlo di nuovo sai perché perché dentro di te non c'era una convinzione straordinaria della grazia di Dio e non ti ha mai portato a dipendere sul sacrificio e la persona di Gesù Cristo che ti porta alla libertà assoluta disprezzi le ricchezze della sua benignità della sua pazienza e la sua longanimità non conoscendo che la bontà è la bontà di Dio che ti spinge al ravvedimento cos'è il ravvedimento come pentimento ti porta a che cosa a un cambio di pensiero alleluia siamo d'accordo che la verità è tanto meglio della menzogna è la verità che ti rende libero ma è la menzogna che continua a intrappolare la tua vita continua a metterti sotto un gioco di schiavitù perciò che cosa avvenne prima la domanda che facciamo a noi stessi è venuta prima la bontà di Dio o il nostro pentimento la bontà di Dio è venuta per prima e noi abbiamo risposto alla bontà di Dio io credo che l'apostolo Paolo abbia fatto questo discorso in modo molto chiaro non sono le nostre azioni che permettono a Dio di agire favorevolmente nei nostri confronti Paolo sottolinea il punto che la bontà la tolleranza e la pazienza del nostro papà celeste porta al pentimento egli ci mostra la sua benignità e noi rispondiamo in fede ed ubbidienza verso di lui quanti noi abbiamo capito che il padre ci ama incondizionatamente alleluia la sorgente della benignità di Dio è nel messaggio della sua meravigliosa grazia e amore quando comprenderemo l'incondizionato amore del nostro padre e la sua infinita grazia verso di noi quell'intendimento ci porterà a cambiare idea sia riguardo lui che riguardo noi e voglio sottolineare e spiegare questo il cambiamento di idea non dovrebbe riguardare noi per primo è la nostra posizione che dobbiamo badare bene la nostra posizione davanti a Dio il nostro cambio di idea è di vedere che Dio è buono è di vedere che Dio è misericordioso che Dio è pieno di amore e quando io rispondo a lui rispondo perché il suo amore mi porta a rispondere faccio una piccola parentesi siamo tutti adulti qui dentro ma una piccola parentesi gli uomini sono mossi da ciò che vedono le donne sono mosse più da ciò che sentono è la mia esperienza con mia moglie e quando mi avvicino a lei le do il mio tempo le do la mia attenzione le parlo lei si apre si sente ascoltata si sente sente che ha il mio interesse che cosa sta facendo sta rispondendo sta rispondendo relazioni rapporti matrimoniali spesso soffrono perché è sempre qualcosa una relazione a senso unico un marito la va a dire e la moglie deve dare perché lui ha il momento parla a tutti i mariti voi avete bisogno di un cambiamento di idea vostre mogli sono un campo ciò che seminerete in quel campo raccoglierete frutti buoni frutti cattivi se la vado oltre false convinzioni il motivo per cui nella chiesa di oggi hanno molta difficoltà con il soggetto del pentimento è perché pensano che tutto dipenda dalla nostra capacità di riabilitare la nostra condotta ma cancio quante volte ti è stato detto o tu l'hai detto tu o te l'ha detto una persona che ti prometteva di cambiare che non è cambiato mai ora cancio si aspetta e spera dice a betto soddi aspetta e spera che già allora si avvicina alleluia riflettiamoci fratelli quante volte è stato detto io devo cambiare hanno provato se non ti duravo un mese se ci andavo buono anche di meno hanno camuffato il rimanente del loro tempo ma alla fine sono caduti nella stessa maniera continuo e il ciclo si ripete perché pensano di avere la capacità di riabilitare la loro condotta ma io dico che è l'amore di Dio dentro il credente che porta il credente a cambiare perché è un cambiamento di mentalità di pensiero queste stesse persone si sforzano continuamente e credono che questo non gli permetta di sperimentare la benignità nella loro vita e quindi il senso di condanna continua il senso di colpevolezza continua e tutto comincia a magnificarsi nella vita della persona del credente perché per ignoranza non comprendono che è l'amore di Dio che ci spoglia benedetto il giorno in cui io ho combattuto Dio e ho perso mi ha spogliato di tutto ciò che era Filippo Cannavò e mi ha rivestito del suo amato figlio quello è stato il giorno della mia libertà è importante capire che noi non possediamo il potere di cambiare il nostro modo di vivere invece abbiamo bisogno di comprendere il suo grande amore abbiamo invece bisogno di comprendere l'amore che il Padre Eterno ha verso di noi questo è il pentimento che la gente ha bisogno di acquisire nella propria mente quando finalmente riusciremo a intendere in verità il suo amore per noi scopriremo in noi il vivo desiderio di fare sì che le nostre azioni siano congruenti con quell'amore che abbiamo ricevuto da parte di Dio il suo amore in me mi porta ad ubbidire mi porta ad onorarlo lo sento presente in qualsiasi situazione è vicino mi vede quando mi vedi tu e quando non mi vedi tu egli mi vede perché sta con me alleluia l'amore che poi ci costringe Paolo scrisse in 2 Corinthians 5.14 che l'amore di Dio ci costringe nota che non dice che è il nostro amore per lui che fa questo ma è il suo amore per noi che ci costringe ed è motivo di motivazione crea una motivazione dentro di noi voler rispondergli perché lui è buono lui è buono lui è buono ti ha fatto mai del male il Signore esige mai della tua vita quello che tu non riesci non riusciresti mai a fare non lo esigerebbe mai anzi ti dico io ti rendo potente per mezzo del mio spirito a fare tutto quello che tu non riesci a fare da te questo fatto oggi è spesso ignorato da molti credenti purtroppo spesso si pensa che la motivazione principale per vivere piamente è di amare lui pensiamo se tu non stai rispondendo al suo amore e se tu ti forzi con ogni tuo sforzo io voglio amare Dio Signore ti voglio amare Signore ti voglio amare non ti mettere lo specchio e dire queste cose invece chiedi a Dio Signore voglio conoscere di più il tuo amore abbiamo bisogno di conoscere il suo amore sai che cosa fa il suo amore il suo amore in noi diciamo in noi il suo amore in noi ci porta ad amare senza condizioni senza pregiudizi senza giudicare gli altri senza giudicare altre situazioni ci fa vedere tutto attraverso gli occhi amorevoli del Cristo alleluia e il suo amore invece che ci costringe a vivere piamente non è una forzatura Dio non ci forza ad amarlo non ci forza ad ubbidirlo ma ci chiama alla resa affinché l'amore di Dio possa entrare dentro di noi e cominciare a produrre una mente sana produrre in noi la forza produrre in noi l'amore produrre in noi la grazia produrre in noi la misericordia verso gli altri produrre in noi una mano d'aiuto come se fossero estese le braccia di Gesù come se Gesù stesso attraverso di noi volesse raggiungere gli altri quindi non accettare sto concludendo non accettare la menzogna che tu devi pentirti per sperimentare la benignità di Dio indipendentemente da quello che tu senti Dio ti ama alleluia Dio ti stima Dio ti apprezza e per questo lo ti ha dato il suo spirito che lavorerà con te fino al giorno in cui Gesù ritornerà lavorerà dentro di noi Paolo disse io sono persuaso sono convinto sono persuaso che colui che ha iniziato un'opera buona in noi se la scorderà a metà strada che cosa colui che ha iniziato un'opera buona che cosa farà la porterà a compimento la porterà a compimento alleluia non accettare la menzogna che tu devi pentirti per sperimentare la benignità di Dio anzi lui viene con la sua benignità per spingerti verso il ravvedimento la bontà di tuo padre verso di te è incondizionato ed è anche indipendente da qualsiasi cosa che tu possa fare quando lo capirai e crederai a questa verità rimarrai meravigliato di come la tua condotta si metterà in linea con una mente pentita cioè dove c'è stato un cambiamento di pensiero alleluia ci ho provato fratelli ho fallito ho cercato per tanti anni di cambiare la mia vita e non ci sono riuscito sicuramente ci avete provato anche voi e nemmeno voi ci siete riusciti ma è l'amore di Dio che ci costringe è l'amore di Dio che ci tocca è l'amore di Dio che viene dentro di noi alziamoci in piedi il pentimento non significa cambiare lo stile di vita non significa avere il rimorso per quelle cose fatte ieri significa invece di permettere all'amore di Dio di cambiare il nostro modo di pensare un cambiamento di condotta sarà la conseguenza di questo amore di Dio che ci costringe cioè lavora dentro di noi e ci fa prendere quelle strade ci fa amare colui che non merita di essere amato ci costringe ci costringe ma non è una forza dura tu lo senti dentro ti porta ti porta lì dove devi essere perché tutto questo è compito di Dio compito dello spirito che lavora nei credenti alleluia alleluia di Dio che dici di Dio di Dio di Dio di Dio di Dio Grazie a tutti.